Si tratta di un fatto grave perché l'attacco a una persona è a due persone mettendone a rischio la vita ai livelli massimi del piano di gestione orso previsto nei rapporti internazionali nel pacco bacce. Quindi nelle prossime ore firmerò un'ordinanza che prevede l'abbattimento dell'orso in questione. Il numero di orsi sul nostro territorio che oggi possiamo stimare tra gli 82-90 esemplari più quelli che nasceranno in questi mesi comincia ad essere superiore rispetto alle capacità di gestione del Trentino ma anche non solo tecniche da parte delle nostre strutture che diciamo quello magari non è il problema maggiore, proprio ambientali di convivenza con il nostro territorio e con le nostre comunità e quindi cominciano ad essere troppi. Conseguentemente secondo una legge nostra che abbiamo che ci permette di fare un piano di gestione autonomo noi faremo questo piano di gestione autonomo e andremo a dire a chi di competenza cercando ovviamente di ragionare e di spiegare ma sapendo che abbiamo comunque uno strumento dell'autonomia, una legge che ha un suo forte valore comunque andremo a dire che oltre questo numero il Trentino non riesce a gestire e a garantire sicurezza ai propri cittadini e quindi questo è un tema che dobbiamo affrontare.